Musica Nuovo appuntamento con Lazio Informa, il format di Teleuniverso che ormai da qualche settimana ci sta accompagnando nel scoprire le notizie che arrivano dall'interno della Regione Lazio. Abbiamo visitato gli uffici di diversi assessori, abbiamo ospitato qui in studio i rappresentanti del territorio eletti in Consiglio regionale e quest'oggi siamo lieti di avere qui in studio con noi un rappresentante eletto in provincia di Frosinone, rappresentante del territorio, il consigliere regionale, vicepresidente della Commissione Sanità, vicepresidente della Commissione Speciale Covid, capogruppo del Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Commissione numero 1, quell'affari istituzionali, Loreto Marcelli. Mi scusi se ho dimenticato qualcosa. Grazie, sì, mi pare che sì, abbiamo detto tutto, sì, proprio sei stato molto puntuale. Allora io partirei subito proprio da quello che è il suo campo d'azione, l'abbiamo vista sempre presente relativamente alle politiche sanitarie del territorio, a maggior ragione nel periodo più duro, quello del Covid, un periodo in cui però la Regione Lazio ha dimostrato di riuscire a rispondere alle esigenze della contingenza che era realmente terribile in quei giorni e poi andando avanti negli ultimi mesi anche programmare ed investire per il futuro. È questo il solco da seguire? Beh, diciamo che è stato un percorso molto duro, lo hai avanzato appunto dicendo che si è iniziato subito con, almeno io ho iniziato subito con la vicepresidenza della Commissione Sanità, in un momento molto difficile, in quel periodo non si sapeva cosa fare, era un evento nuovo, non si aveva nessuna coniezione di causa di quello che poteva o stava succedendo, ma ecco siamo stati subito pronti e al momento eravamo in opposizione, quindi non ci siamo posti mettendo i bastoni tra le ruote, ma ci siamo subito posti con un senso di responsabilità per collaborare affinché si potesse prendere tutti quei provvedimenti necessari per poter affrontare questo momento nuovo, questo momento triste per tutto il mondo che era appunto la pandemia Covid. diciamo che le risposte sia della Regione Lazio che del mio gruppo politico sono state subito pronte con un senso di collaborazione e di responsabilità, come dicevo prima, per darsi da fare e combattere questo virus, l'abbiamo fatto con tante proposte, abbiamo iniziato subito chiedendo un consiglio straordinario a febbraio del 2020, quindi ancora prima che scoppiasse la pandemia in Italia, a quel tempo eravamo solamente con i due cinesi al paratino di Roma e non avevamo contezza di quello che sarebbe potuto succedere anche nella nostra regione, nonché in tutta Italia e in tutto il mondo. Abbiamo subito avvertito l'esigenza di prendere attenzione chiedendo alla Commissione Sanità una Commissione straordinaria per affrontare il coronavirus e da lì partimmo subito con le proposte perché proposi subito nel momento in cui si stava prendendo in considerazione che nessuno più poteva avere libertà anche nell'andare in un ambulatorio di uno studio medico, nell'ambulatorio del proprio medico di famiglia, subito di proporre appunto nella riflessione dei problemi che ciò avrebbe causato, che magari un assistito non avrebbe potuto avere nemmeno le medicine necessarie per una vita normale. Subito abbiamo proposto la ricetta dematerializzata che è stata poi approvata, quindi adesso si chiama il medico di famiglia e si ha la ricetta telematica a casa, quella è stata una rivoluzione che è iniziata dalla Regione Lazio che poi è stata ripresa dal capo della protezione civile allora a Borrelli e l'estese in tutta Italia, quindi è stato un provvedimento veramente rivoluzionario che io e il mio gruppo abbiamo contribuito a rispondere subito, efficacemente a questa prima emergenza. Poi ci sono state tante proposte appunto nel campo della sanità, abbiamo chiesto di avere attenzione per i percorsi separati, per il Seresmi, l'attenzione sull'RSA, abbiamo avuto anche la... in quel momento c'erano non solamente problemi di Covid ma si erano fermate tutte le altre attività, quindi abbiamo posto anche la nostra attenzione alle altre, all'altro, a tutto ciò che... Ecco, proprio a tal proposito, io ricordo perché ero presente quel giorno nell'ospedale della sua città, nell'ospedale di Sora, quando eravamo sì in via di uscita dal Covid ma venne inaugurato quel nuovo servizio relativo alla prevenzione precoce dei tumori della mammella, la sua soddisfazione nell'essere lì per rappresentare in quel momento quanto si riuscisse a fare un qualcosa di più in un momento ancora complicato e ancora in cui non c'era poi tutta questa certezza che ne saremmo usciti fuori subito. Diciamo che la nostra preoccupazione per le altre attività anche oncologiche ci sono state, sollecitando anche l'ASL, l'allora ex direttore generale Pierpaola D'Alessandro che in quel contesto riorganizzò anche tutta la sanità provinciale che poi è stato sempre il mio sogno, quella di una sanità provinciale cosiddetta di un policlinico allargato, ossia i nostri quattro ospedali che sinergicamente potessero dare delle risposte come se fosse un solo ospedale, ognuno per la propria competenza e per la propria specializzazione, quindi che poi subito è stato raccolto questo messaggio e ne sono fiero perché l'ex direttore generale proprio qui parlava di un policlinico diffuso, è molto simile al policlinico allargato e ciò è stato messo in cantiere anche con la realizzazione di quello che era e che ho sollecitato tantissime volte, visto che abbiamo avuto sempre dei problemi, dei viaggi della speranza verso Roma di potenziare il polo oncologico provinciale che si risiede a Sora, ma i tentacoli in tutta la provincia, quindi anche a Frosinone, si stava pensando di potenziare il DH oncologico anche di Cassino perché i tentacoli, una chemioterapia si può fare a Cassino, si può fare a Frosinone, si può fare a Sora, quindi un policlinico, un polo oncologico provinciale che poi effettivamente è stato realizzato con nuovi apparecchiatori, con i famosi acceleratori lineari, tante sono state le sollecitazioni, è stato annunciato anche dall'assessore qualche mese fa l'inserimento di una PET affinché anche nella nostra provincia, ho sollecitato tante volte anche con atti in consiglio l'inserimento della PET, ci sono nuovi acceleratori lineari, nuove strumentazioni, il primario che mancava da 4 anni, diciamo che il polo oncologico che non esisteva solamente sulla carta agli inizi del 2018, poi è stato realizzato anche in questa criticità importante del Covid, noi abbiamo sollecitato le denso strutture per garantire spazi più aperti e più protetti anche per le vaccinazioni, per i drive-in in tutta la regione, abbiamo, diciamo ora non ricordo ma sono state tante le nostre proposte, vorrei dirle spaziamo un po' anche su altri campi perché se no facciamo una trasmissione solo sulla sanità e invece sono state tante le cose su cui avete lavorato, a me viene da pensare l'ambiente. Assolutamente sì, il fondo per i malati oncologici, la prima legge in Italia del supporto, siamo partiti, la prima legge approvata, la legge sulla psico-oncologia, quindi il supporto psico-oncologico in tutte le oncologie del Lazio, oggi in realtà siamo la prima regione in Italia, la stanno proponendo anche le altre regioni, l'ha proposta anche il mio gruppo in Senato doppiamente nella scorsa e nel nuovo insediamento del governo al Senato, quindi è una bella risposta non solamente sul Covid ma anche su altre, siamo stati anche quelli che hanno proposto la separazione, visto le criticità, quindi dei percorsi misti, abbiamo anche il possibile contagio, l'indennità Covid, abbiamo favorito l'indennità Covid anche a tutti gli altri operatori della sanità, non solamente a quelli che potevano considerarsi in prima linea nelle parti infettive, nelle malattie infettive, nelle parti Covid ma anche in tutti gli altri perché ormai si era diffuso e quindi abbiamo anche proposto la separazione degli ospedali Covid con quellino Covid che poi è stata attuata dall'assessorato, quindi il nostro supporto è stato subito collaborativo, incisivo perché poi si sono concretizzate tutte le nostre proposte e di questo noi ne siamo soddisfatti mantenendo sempre l'attenzione anche su tutte le altre patologie, sulle visite che dovevano riprendere, sulle operazioni che magari su altre patologie che erano state messe, visto che era difficile poter anche entrare in un qualsiasi ospedale della nostra provincia. Abbiamo cercato di lavorare sodo per dare risposte ai cittadini. Ambiente, lei ha fatto una battaglia molto importante anche in questo caso sullo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio regionale ed in particolare su quello della nostra provincia. L'assessorato poi da 20 mesi è retto dalla sua collega di partito Lombardi, c'è molto da fare ancora, però anche qui la strada imboccata è quella giusta per un futuro di sostenibilità anche nel Lazio. Guardi, io personalmente in questo contesto non stando né in assessorato né nella commissione ambiente, sì mi sono interessato di queste tematiche ma il merito maggiore va all'assessorato che una delle nostre stelle, quella del Movimento 5 Stelle è proprio l'ambiente e queste sono state da tempo le nostre attenzioni, le rinnovabili, l'energia, le fonti di energia alternative. Sì, l'assessorato appunto capeggiato da Roberto Lombardi ha dato tanto in quest'ultimo periodo per le energie rinnovabili, infatti è stato potenziato il fotovoltaico, addirittura è salito al 323% la potenza del fotovoltaico, c'è stata molta attenzione e quindi da poco è nato il piano energetico regionale, poi sono nate 63 CER, quindi 63 comunità energetiche regionali appunto merito dell'assessorato che si è dato enormemente da fare anche con l'ultimo piano per Civitavecchia, di transizione ecologica per Civitavecchia con l'intento e il desiderio, anche quel sogno di trasformare una centrale a carbone in energia verde nei prossimi anni, magari negli anni futuri quando ci saranno altre generazioni pensando appunto a un ambiente migliore per loro. Sì, sono state fatte tante cose per la transizione ecologica, per quanto riguarda il mio impegno in ambiente, sì, mi sono occupato di prendere in considerazione le parti più belle del nostro territorio, lottando anche per un ambiente migliore in tanti campi, abbiamo avuto attenzione su qualche impianto di rifiuti pericolosi e non, c'è stata l'attenzione che magari erano da non considerare determinati impianti e mi sono interessato delle parti belle del nostro territorio, interessando di monumenti naturali, è stato istituito quello di Sora, ha già una dotazione finanziaria, stiamo aspettando la realizzazione del progetto da parte del Comune di Sora, che è l'ente gestore del monumento naturale, ho proposto e quindi sono stati approvati degli ordini del giorno con i pareri anche favorevoli di diversi comuni, sia di quello del Melfa e del Tracciolino, nonché del Feudo di Montenero di Arpino, nonché di Prado di Campoli a Veroli. Ecco, poi durante questi percorsi, direttore, nascono delle difficoltà, perché il nostro interesse è disinteressato, nel senso che per il bene del territorio si propone un provvedimento che magari poi per altre piccolezze o entrarci nel percorso per diversi motivi e ancora stiamo combattendo per poter realizzare, magari questo potrebbe essere anche il futuro, perché non smettiamo di avere l'attenzione e contezza di quelle porzioni, di quelle parti di territorio che sono bellissime, quindi non ci fermeremo, cercando di alimentare appunto quegli ostacoli nel percorso che finora ci sono stati negli ultimi tre monumenti naturali. È andata meglio per Sora, visto che l'amministrazione comunale ha subito recepito sia la scorsa al vecchio sindaco che il nuovo hanno condiviso questo progetto, sperando che si realizzerà presto un'attenzione più concreta per effettivamente non avere solamente restituzione, ma agire concretamente su quel pezzo di territorio della nostra provincia che è da considerare e da valorizzare e tutelare. Un pezzo del territorio della nostra provincia che lei ha difeso e tutelato anche dal punto di vista delle infrastrutture, ha fatto un po' il cronista di quella che è stata la vicenda della strada regionale 82, una strada fondamentale che unisce non solo diversi comuni della provincia di Frosinone, ma possiamo dire che è un pezzo fondamentale per unire il Tireno all'Adriatico non avendo una strada di ascorrimento veloce. Ecco, piano piano, 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 quei lavori che erano stati sollecitati e caldeggiati da lei sono arrivati e non ci si ferma qui. Sì, diciamo che, odio parlare di cronista direttore. Eh, diciamo che sui social ci ha informato in maniera puntuale, ecco, in questo caso. Ah, assolutamente sì, ho informato in maniera puntuale, ho sollecitato queste criticità di viabilità che ci sono state e ci sono ancora per il nostro territorio tutto, almeno nella provincia di Frosinone, visto che ho caldeggiato sin dall'inizio, quando era ormai una giungla impraticabile la Sora Ferentino, ho caldeggiato tramite Anas all'epoca, mi sono interfacciato in modo abbastanza collaborativo con chi aveva la responsabilità di quel tratto di strada, subito si è iniziata la manutenzione perché poteva essere considerata, non la Sora Ferentino, ma poteva essere considerata la via, non quella dei parchi che arriva in Abruzzo, l'autostrada dei parchi, ma la via dei Pioppi, perché ecco, quindi era una strada insicura, non c'era visibilità, le piazzole di sosta erano impraticabili, erano ormai ricettacolo di rifiuti, quindi si è cominciato a dare l'attenzione a questo tratto di strada importante, ora la Sora Ferentino è un gioiellino e di questo ne sono veramente molto fiero, come l'attenzione a tre chilometri famosi di congiungimento tra il Lazio e l'Abruzzo, in quel di confine nei pressi, confine tra Sora e Balsorano che poi sono stati attenzionati, quindi oggetto di mie interrogazioni, provvedimenti che sono stati fatti emozioni e poi c'è stata la risposta definitiva. L'SR82, erano 25 anni che ormai era un cradere impraticabile, una strada regionale che attraversa Sora, oggi la cittadinanza nonché chi arriva da tutte le province, chi transita in quel pezzo di strada è felice di poterla fare senza mettere a rischio gomme, cerchi oppure braccetti. E poi, ecco, le aggiungo un'altra cosa, direttore, visto che non c'è solo l'SR82 da mettere in attenzione oggi, perché a breve già sono partiti il primo lotto dei lavori del mio interesse per la strada che collega Brocco Stella con Atina, la SR, se non sbaglio, 627 dovrebbe essere, in pratica la strada della Vandra, la strada regionale della Vandra, che prende i comuni di Brocco Stella, Vialvito, eccetera, che a breve sono stati anche consegnati i lavori, quindi andremo a valutare quali sono i tratti ammalorati per poter agire proprio tra qualche giorno e partirà il secondo lotto di questo intervento di 600 mila Euro riversati su questa strada che anche ha le sue criticità. quindi, diciamo, un po' ora la viabilità della nostra provincia è un pochino migliore, ma è questo quello che noi dobbiamo fare, portare all'attenzione di chi se ne deve occupare delle criticità e dei problemi che tutti i giorni i nostri cittadini vivono in tutti i campi. Onorevole Marcello, io la ringrazio, il tempo a nostra disposizione è terminato, grazie per questa chiacchierata e per averci portato tante informazioni sulla sua attività e sull'attività della Regione Lazio negli ultimi anni. Grazie ancora. Grazie a lei, Vittore. Grazie e noi ci vediamo al prossimo appuntamento con Lazio Informa.